bella benvenuti questo nuovo non c'è luce perché c'è luce benvenuti questo nuovo video della tecnologia e ho fatto un po più di luce se siete bene è cambiato allora c'ho un casino in stanza perché sto sistemando che ho visto le foto su instagram e c'è un topo che mi guarda ho costruito una gambetta per i topi sacco di cose ragazzi macello sono due giorni che non lo voglio giocare a micrame la faccio prima e sta in avril non si vede perché la webcam è piccola fortunatamente nel sito del bordello che c'è qua dietro e non mi andava nemmeno di tagliarmi la barba perché non mi andava subito la mia barba eccomi qui nel mondo della tecnologia non so che minchia fare no c'è un sacco di cosa da fare ragazzi ma non so da dove cominciare a mettere le mani perché sarebbero tante cose da fare il cazzo sei tante cose da fare off camera ma sarebbe brutto farlo off camera se avete visto guardate la mia mano tanti nuovi cohofen tanti cohofen nuovi che dovrei utilizzare in qualche modo soltanto che si è fatta la carbonela qui ma sai che cazzo niente soltanto che non so dove metterli dovrei iniziare a fare le strutture e l'unica cosa che mi manca però il teletrasporto gli oggetti cioè dovrei capito sarebbe tipo un casino non si finirebbe mai e questo affare ragazzi ha scavato un botto allora siete pronti a pronti c'è anche una cosa che voi fate what mi faccio vedere what mi ha scavato 16 dance iron death cross mod cioè questo scava l'iron mi ha scavato due stack e 40 io ho fatto fa due giri con tre giri cioè ho riempito per tre volte tutte le opere al massimo quindi ho consumato un bel po di carbonella tipo un una 36 carbonella ho consumato 36 carbonella mi ha fatto quasi tre stack di iron uno stack di tin uno stack di nickel e 16 dance iron voi fate what the fuck cioè non mi l'aspettavo proprio 16 dance iron quando ho detto ho fatto what cross modding 6 guarda ragazzi questo è il futuro di minecraft capito ormai esisterà cioè diventerà un gioco standard quanto era uscito due stack ok ho fatto due stack di ferro perfetto ho messo nel polvere diventano quattro stack di ferro quattro stack di ferro in due secondi gg this future non è è tanto relativamente è tanto ma è poco perché lo consumerò tutto effettivamente ragazzi sto continuando a consumare ferro non mi è rimasto quasi nulla e voglio fare altri generatori ho fatto altri cad hanno fatti altri sia vabbè fatto altri cicli di cad ho fatto altri 6 transfer nod ad usare uno stack di questi ho fatto fatto uno stack e trasferno ad items ho finito quasi tra resto non ho scavato un altro po me ne è rimasta pochissima ovviamente c'ho tutto sto schifo che non ci faccio niente elettrodite e però almeno sei di questi posso fare altri generatori di quelli compattati ce ne servivano in totale di 10 giusto per fare 3200 rf e perché producono 321 quindi 320 per 10 3200 più 10 per 10 10 3200 3200 moltissima gente mi sa ancora chiedendo xander perché sta in fissa qui coccover che sono vecchi e fanno schifo al cazzo sono d'accordo al 99,8 per cento sono vecchi sono brutti sono scomodi sono lenti su tutti tutti i difetti però però sono più però trasformano il coal in coal coke cioè raddoppiano qualunque materiale noi vogliamo trasformare in carbonella cioè anche la carbonella stessa vedete what esatto ragazzi io posso mettere il legno legno grezzo e nel coccover e diventa carbonella praticamente faccio il processo fornace a gratis e posso farlo ripetuto guardate quante volte voglio ovviamente qui basta fare un'automazione semplicissima che cazzo però xander non si fa basta fare un'automazione semplicissima con i tubi è proprio una minchiata da fare guardate basta ne metti tutti in fila il mio spammare macchinari in questo c'è anche mi sta dando molto fastidi devo devo sbrigarmi a distribuire la roba dovrò tipo mettermi a farmare penso con le rotaie non so cosa mi metterò penso che le rotaie siano la soluzione migliore il problema rimane che scusate bene il problema rimane che devo poter raggiungere tutti i posti rapidamente se io usassi le rotaie per i materiali poi sarebbe un po' un macello insomma devo un po' vedere come gestirmela perché lag io non voglio lag non so se vedete in alto a destra già faccio 100 già faccio 280 fps sta calando prima ne facevo 500 quando inizia la serie quindi già i macchinari cominciano a pesare già cominciano a sentirsi spero di stare registrare bene buono lo so ragazzi un paio di giorni che non registro come detto perché sto sistemando la stanza e mi mancano due blocchi comunque giusto così 1 2 3 4 5 allora adesso io entro a qui cosa sapete che ci butto la carbonella la carbonella cioè ci butto il legno grezzo che mi diventa carbonella cioè swag proprio dammi i tubi tanti tubi 22 che ci faccio io con 22 ne voglio mille ne voglio come era rame e led no e tin come erano i tubi lama e tin o lama e led tin va bene va bene va bene basta 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 led vai pronti arrivano i tubi pronti eh 3 2 1 ah no pensavo di più ok no niente allora cosa mi serve servo pneumatic servo li abbiamo già visti facilissimi da fare vetro e ferro mi servono ah però potrei fare aspetta potrei fare questi hardened con la redstone e l'invar c'ho l'invar l'invar yeah yo bro yo bro let's do this faccio quelli di invar che sono leggermente più vengono fuori ah nugget di ferro non di oro perché ho preso le nugget di oro sono un masochista le prendo le nugget si fa con le nugget di ferro ma io prendo quelle di oro perché voglio spendere più materiali non viene il crafter che mancano il vetro 27 ti adesso ce l'ho il vetro di me che non va adesso il crafter ok sono fatti pure troppi ok perché gli hardened e non quelli super mega p molto semplice praticamente con come sono lentissimi effetto il rallentatore che ho fatto ragazzi per farvi capire la lentezza che può avere quel macchinario sgocciolo allora in teoria il collegamento che devo io fare è dal barrel della carbonella fino ai co coven co cove siamo cove non so che stanno e si dice co 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 non pensate male o giochi cosa brutta che sto facendo effettivamente ci ho pensato dopo che l'ho fatta non so se taglierò questa parte tipo non potrei dirla quella parola tipo spammata così però dettagli è tornando a minecraft facendo finta di niente vedete sto collegando tutto in questo modo molto grezzo non mi fotte una beata minchia di come si collega l'importante è mettere insieme tutti questi affari qui una volta messi tutti insieme basta mettere un barrel e allora questi affari ragazzi basta buttare all'interno materiale da qualunque punto e si possono riprendere da qualunque altro punto this is minecraft the future vabbè sta roba esiste da tipo mille mila anni però dettagli quindi adesso metto un bellissimo servo qui che tira fuori carbonella eccola qui dovrebbe già uscire eccola qui tira fuori il legno il legno finirà qui dentro si cuocerà uscirà del creosoto e diventerà carbonella free proprio senza motivo proprio senza energia così a buffo non c'è nessun requisito potete metterlo dove vuole nel terreno sotto terra dentro la bedrock nel vuoto nel nether lui farà sempre carbonella e creosoto il creosoto poi farò vedere come utilizzarlo comunque boiler per i liquidi easy insomma oh la legna ragazzi è giunta a destinazione guardate un po' sta già cuocendo è già a metà del processo una volta che il brunt una volta che la brunata sarà finita e la freccetta sarà finita uscirà della carbonella e io tramite servo furbo e lesto estrarò la carbonella e la manderò all'interno e già comincia un po' a laghicchiare vediamo già che si inchioda perché questi cosi ragazzi fanno molto laggare vi consiglio di metterli molto lontano da casa vostra e magari magari eh non magari magari potete optare per l'altro tipo di questi oven ce ne sono due tipi diversi ora non so quali dei due fa laggare di più devo ancora studiarmelo io vedete guarda l'fps 90 oh stiamo scherzando ah ecco dicevo guardate un attimo ci sono scrivete coke nel mio modpack eh non in tutti c'è quello dell'immersive engineering che dovrebbe stare da ste parti eccolo qui coke brick vedete questo coke brick dell'immersive engineering funziona allo stesso identico modo facendo la stessa cosa che ho fatto io con questi col coke dell'immersive engineering otterrete dei forni del genere e potrete cuocere il carbone e trasformarlo in carbonella yeah dov'è il creosato fammelo vedere eccolo qui ragazzi per un po' creosato è oil 250 e dovremo tirar fuori anche il creosato vabbè quello lo facciamo poi non andiamo di corsa chi se ne fossa l'importante è far partire sta produzione di carbonella perché ne ho bisogno è lenta non è efficiente cioè lentissimo effetto lentezza ci vuole soltanto che è buffo è dal nulla capite è proprio free poi in futuro passeremo avanti tecnologia e faremo il coke oven industriale poi ne parleremo che sarà tipo grande così però ne parleremo poi insomma non voglio spoilerare ecco non c'è spoilerato forse dovrei essere tipo in grado di craftare un bel po' di generators adesso eh perché ho un bel po' di ferro vediamo un po' quanti ne vengono fuori 16 not bad quindi prendiamo anche questi transfer cuts e transfer snods e facciamo due furnace generator per otto voila e possiamo aumentare l'energia che diamo alla nostra trivella l'unica cosa che gli manca è ovviamente un rifornimento di charbonella quindi ce la metteremo poi con molta scialma guarda che figo raga che fighe si generano mi piacciono non so perché mi ispirano generazioni di energia però io li voglio vedere un giorno girare tipo dritti sarebbe più figo immaginate dritti in verticale capito come tipo rovesciati però non si girano questo si girano no niente non lo faccio più scusate quello di cui ho bisogno adesso importantissimo che veramente ragazzi non posso rimanere senza sarebbe mob spawner ho seriamente bisogno di blaze e di enderpearl e purtroppo non ho ancora uno spawner e devo farlo prima possibile io se cerco auto spawner questo nel 99 per cento dei pack facciamo 95 perché qualcuno lo sta togliendo possiamo avere questo auto spawner che ci serve per poter spawnare i mob è molto facile bastano due di questi due netherworld due plastic sheet due smeraldi tutta roba che abbiamo comunque in quantità ma non gli smeraldi che c'ho what the fuck mazza tutto preciso ma il cazzo è pare che ho fatto apposta machine frame che abbiamo già prodotto della thermal ovviamente tutto cross moda ragazzi e poi mi serve il resto reception core ma tutto preciso ma che cos'è il destino e tu fai l'autospawn e fatto ma what the fuck is this ok comunque questo auto spawner ragazzi è un macchinario che ci permette di spawnare i mob non lo rispiego perché c'è sempre qualcuno che non lo sa quindi ragazzi se dici di vabbè sempre le stesse cose spiegate c'è chi non lo sa quindi fatevi una ragione questo auto spawner ci permette di spawnare i mob che io desidero io scelgo quale mob devi spawnare voglio spawnare stucca che te se frega e io lo spawno capito tutto quello che voglio però per spawnarlo ci serve una safari questa qui safari net si fa con quattro enderperno gas tier io la gas tier l'ho rimediata già eccola qui le enderper le usate tutte figura del merda aspetta ah ce n'ho due c'è due enderperno allora dato che c'ho questo con sharpness 9 ne approfittiamo facciamo sharpness 10 livello 27 richiede what ok ce lo volevo fare sharpness 10 ma vabbè quanto cuori fa fa 19.25 quasi quasi one shot i mob raga fa 19 e 20 orca paletta devo rimediare un enderman e ucciderlo ragazzi ho looting 5 qualunque enderman ammazzo mi troppa almeno un enderper fino a 5 enderper voi avete idea di what the fuck is this e devo trovarlo però un enderman è quello il problema 15 cuori a posto pochi damage wow ah poi volevo far notare il ragno che mi ha droppato 7 fili e lo zombie due bistecche che tristezza ricordiamo il creeper quanto droppa 5 gun powder it's all good it's all good it's all good it's all good ecco l'enderman sta più dai perché io devo cercare di enderman e piove ma come devo fare non ho parole tutto a puttana gli enderman scappano quando piove cioè rendetevi conto rendetevi conto io sono dovuto andare a dormire aspettare perché per far finire la pioggia sono dovuto andare a dormire aspettare che rifacesse notte ed eccomi qui finalmente dopo dieci minuti a rompermi le palla girare il mondo ammazzare mucche di merda finalmente sta facendo notte e forse troverò un enderman se qualcuno me la manda buona oggi un enderman lo trovo vorrei far notare nel frattempo i milioni di miliardi di maiali che mi stanno intorno sono circondato da maiali beh io faccio bistecche le butto pure nel culinari tanto producono un botto cazzo mi fotte ma potrei fare un culinari per otto interessante però voglio un enderman se lo trovassi magari sarebbe tipo meglio andiamo un po sulla journeyman se dice qualcosa riguardo un enderman un cazzo di niente giriamo un po e vediamo se siamo fortunati oggi endermans dove siete venite ok raga dovrei avere un enderman davanti a me e uno scheletro alla mia destra che ora muore mi ha droppato sei ossa e tre frecce ok muori magliale di merda dove sei enderman del cazzo vieni fuori ragazzi preparatevi che blitz che ricomincerà la snoia craft preparatevi a sta per ricominciare non manca molto non manca molto forse potrebbe essere già ricominciata no non è bene no ricomincia domani quando è che ricomincia noia craft domani 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 no domani c'è l'u hc cazzo allora dopo domani dopo domani dopo domani ricomincia noia craft fotto un cazzo però mi registro un episodio vediamo un po ci penso su ci penso su dove sta sto enderman del cazzo che è di là sotto l'albero ma dov'è scusa non lo vedo sotto al tonico dove sta enderman this is enderman where are you come out let's do this enderman minchia sta sto enderman dietro non lo vedo ma guarda dove sta quello stronzo ah mi ha visto ok ok si è incazzato lui ok mi ha visto vieni no ecco ti pezzo di merda ti sfascio i denti dove sei dove sei vieni no rotto al culo cazzo tutto di merda scombattimi scombattimi se c'è scombatti eh c'hai paura c'hai paura c'hai paura di via le pizze vieni qui scombattimi tutto scombatti spasciato i deti tre ender per testa di enderman pezzo di merda ti appendo dentro casa fai schifo cagasotto lurido sgoccioli scusate ragazzi sono incazzato con l'enderman ah come qui a casa allora devo mettere una gastiera quattro enderman intorno sì ho ammazzato un altro enderman mentre tornavo una troppa del antetre bucio de culos e posso fare due safari net perché me ne servono proprio due per coincidenza non proprio cioè sì oddio sì potrei fare spawner di enderman e di blaze non è una cattiva idea ok abbiamo due safari net e devo andare a catturare adesso un bellissimo blaze per trovarlo sarà tipo un'avventura impossibile ma it's all good quindi ragazzi io adesso mi vado nel nether mi vado a cercare un blaze lascio la carne schifosissima qui a cuocere perché è marciosissima perfetto e me ne vado dietro nel nether a cercare questo blaze da catturare la safari net mi permette di catturare un mob cioè ci clicco col destro sopra me lo cattura guardate un mob e faccio vedere mob mob voglio farlo vedere mob non ci sono mob finiti mob finiti oh guarda c'è un creeper lì guardate una witch cattura una witch per cattiveria bam mia catturati presa c'è molto ok adesso ragazzi ho catturato una witch e l'ammollo quando mi pare ah si è cazzata si è cazzata via ok ragazzi per questo video è tutto io ho catturato una witch e l'ho lasciata libera perché sono uno stronzo un leggendario non è difficilissimo a trovare l'ho lasciata libera perché non ho tempo da perdere ci vediamo nel prossimo video e lasciate un mi piace e tutto quello che mi pare bella grazie a tutti